PEGI 18 Dicevano che una goccia del mio sangue poteva cambiare tutto quanto. Salvare la gente dalla malattia, dalla morte. Sono passate due ore dalla procedura. Soggetto deceduto. È successo mentre nessuno guardava. Come radici nella terra. Vampiri. Ecco che cosa sono diventati. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto inizio con la Evum. Un'azienda farmaceutica di parassiti ossessionati dall'immortalità. A poco a poco la città è stata inghiottita. Gente scomparsa, cadaveri, fanatici. Verranno a prendervi di notte e vi svuoteranno. E proprio quando sembrava che le cose non potessero peggiorare, è sceso il buio. I fanatici li chiamano Dei. Vampiri dai poteri inimmaginabili che dominano Redfall. L'uomo ombra. Tom il sanguinario. Madame sussurro. Il sole nero. Dei creati dalla scienza. Ma come potremo fermarli? L'unico modo per scoprirlo è immergersi nell'oscurità. È ora di riprendersi Redfall. La cruce. Questo è il lavoro di una vita. Non potete uccidermi. Sono un incubo. Vedi che cosa ho creato? Io sono l'ultima. E anche la prima. Ti porterò via tutto ciò che hai. Grazie a tutti.